Allora possiamo iniziare. Buonasera a tutte e a tutti, ben ritrovati perché diversi di voi, o scusatene, ho ancora dieci da fare entrare, abbiate pazienza. Si dicevo ben ritrovati perché alcuni ci seguono da sempre e un saluto particolare, prima Monsignor Bettazzi che è fedele nei nostri incontri ed è sempre apprezzato e ricordato da quanti hanno potuto incontrarlo nell'arco della loro vita. Poi un saluto e un ringraziamento certamente a Don Paolo Farinella, un amico da tempo, che questa sera ci aiuterà a comprendere e approfondire questo tema fede, religione e profezia, temi che stiamo affrontando anche in altra maniera con altri relatori, in particolare con Enzo Bianchi che ci accompagna nella lettura della Bibbia. Stiamo proprio parlando dei profeti. Lunedì prossimo terrà la seconda lezione sui profeti. Abbiamo anche la presenza di Dino Bigio che lunedì scorso ci ha permesso insieme a Don Paolo di accostarci a Arturo Paoli, profeta del nostro tempo e che certamente il lavoro che sta facendo Dino Bigio nel presentarci tutto quello che ha detto, scritto, supportato anche da Don Paolo, sarà certamente un arricchimento, una possibilità bella di conoscere anche la spiritualità di Giorgio Foucault. Non possiamo, credo, questa sera non dedicare la serata al teologo Carlo Molari, che come altri liberi pensatori fu censurato e deceduto a 94 anni sabato scorso e i cui federali saranno celebrati domani. Lo ricordiamo perché è il più grande teologo italiano dei nostri giorni, così ha scritto anche Vito Mancuso, aiutante di studio all'ex santo ufficio e poi docente di dogmatica nell'Università Urbaniana. Nel 1978 chiese la pensione dopo che la prefazione al dizionario teologico Borla Editori e il libro La fede e il suo linguaggio, Cittadella, vennero accusati di sostenere posizioni non conformi alla dottrina. I censori non accettavano il fatto che di Dio non si possa dire nulla di definitivo in quanto la sua comprensione cresce con l'evolversi dell'uomo e delle sue capacità cognitive. Un pensiero su cui oggi in tanti concordano è messo in pagina da Molari in un poderoso volume edito da Gabrielli Editori. Ed è questo il cammino spirituale del cristiano che vale proprio la pena di leggere. E allora Don Paolo, biblista, parroco di Sant'Orpete, senza parrocchiani, scrittore, contribuito con diverse pubblicazioni, anche articoli su rivisti, eccetera, portare avanti questo discorso sulla fede, sulla lettura della Sacra Scrittura, secondo gli strumenti più moderni che permettono di dare una interpretazione il più possibile vicino alla alle origini. E chi volesse conoscere meglio anche il pensiero e la spiritualità di Don Paolo nel suo blog troverà i commenti veramente lunghi, approfonditi, delle letture domenicali nell'arco dell'anno. È un lavoro enorme che svela quanto ci sia a livello culturale di ricerca, di impegno, eccetera. Noi lo ringraziamo, non aggiungo altro, lo ringrazio e ci mettiamo in ascolto. Certamente ci sentiremo qualche volta stasera graffiati in senso positivo, perché abbiamo bisogno di risveglio, in questo periodo dove si parla di sinodo. Siamo anche contenti della nomina dell'arcivescovo di Torino, Don Roberto. Speriamo che sia un bene per la Chiesa tutta, in modo particolare per la Chiesa italiana e piemontese. Buon ascolto e buona serata a tutti. Buonasera a tutti. Ringrazio Don Mario, mio carissimo amico da tantissimi anni, che mi ha invitato questa sera per esporre un tema che per me è determinante e, come dire, urgentissimo, sebbene siamo fuori tempo massimo. E vorrei cominciare proprio da Carlo Molari, un carissimo amico personale, che non dava mai per scontato Dio. e diceva che forse bisognerebbe acquisire quell'atteggiamento dei padri della Chiesa, dei primi secoli, che erano più propensi a parlare di un Dio, dico una parolaccia, poi cerco di tradurla, parlavano di un Dio apofatico, cioè di una teologia apofatica, e cioè che di Dio è più facile, meglio, non dire nulla se non si sa di che cosa si parla o di chi si parla. È meglio dire chi non è piuttosto che definire chi è. Arturo Paoli, uno degli assunti di Arturo Paoli, che noi troviamo nel suo diario, che stiamo preparando per la pubblicazione, è questo, la rovina della Chiesa, è stata aver assunto la filosofia dell'essere, quindi la filosofia platonica fino a Sant'Agostino, a Sant'Ommaso, e la filosofia aristotelica per spiegare l'esistenza di Dio e anche la sua natura, che è inconcepibile, incompatibile con le definizioni, più che le definizioni, con l'esperienza che portava Gesù e che di Gesù abbiamo testimoniato nei Vangeli. Dire, parlare di Dio oggi per noi è facile, o meglio, è facile per la religione, perché la religione ha bisogno di un prodotto da vendere, perché senza la vendita, senza un mercato di oggetti religiosi, tra cui Dio, la religione non regge, non resiste, non può stare in piedi. E come nel 1927, davanti alla National Seculari Society di Londra, Bertrand Russell tenne un discorso che divenne immediatamente famoso e che divenne anche un libro, un libretto piccolo, perché non posso dirmi cristiano. La ragione che lui porta è proprio questa, la religione si basa essenzialmente sulla paura, in parte questa paura è terrore dell'ignoto, in parte bisogno di immaginare qualcuno che ci protegga, che ci aiuti nei pericoli, una specie di fratello maggiore. Noi, al contrario, ci siamo fatti un Dio a nostra immagine e lo abbiamo definito con contorni molto precisi. Se voi prendete il Catechismo di Pio X, pubblicato la prima edizione nel 1907, è chi è Dio? E la domanda, mi pare che sia la 428esima, la domanda è, la risposta è Dio è l'essere perfettissimo creatore del cielo e della terra. Poi vi sono le spiegazioni delle singole parole, però voi capite che c'è un teorema. Questa è la definizione di un teorema. Non è la definizione, non è l'incontro di una vita, non è l'esplosione di gioia di aver incontrato qualcuno. Ed è vero, come dice Bertrand Russell, che la religione nasce dalla paura e alle volte dal terrore. Si potrebbe fare l'etimologia della parola paura, per esempio in ebraico, e scopriremo tanti significati, sia nel senso materiale, oggettivo, sia nel senso antropologico. C'è qualcosa che ti avvolge, ti strince e che incute uno smarrimento generale. Questa la si trova anche in questo senso anche nell'elinque, nell'accadico, per esempio, perché la radice è la stessa. Però questo ci porterebbe lontani e anche su un piano più tecnico. Io vorrei invece scendere sul pratico e far riflettere con voi e poi nella discussione ne possiamo, come dire, approfondire reciprocamente anche con la vostra esperienza e la vostra scienza. Guardiamoci attorno. In questo momento, coloro che si credono i grandi della Terra cercano di mostrare i muscoli giocando alla guerra, che è una cosa come dire assurda, assurda, perché non si dovrebbe nemmeno poter immaginare di utilizzare lo strumento guerra come arma di ricatto. Di fronte a questa situazione che, a mio parere, è un mostrare i muscoli fino all'ultimo fino all'ultimo millimetro possibile perché una guerra non conviene a nessuno in questo momento. Io mi chiedo qual è la posizione non della Chiesa intesa come Vaticano, perché il Vaticano per sua natura deve seguire le leggi diplomatiche, ma della Chiesa dei battezzati. Qual è la posizione? Qual è l'atteggiamento? Io non ho visto niente fino adesso. La seconda cosa, durante questi due anni di pandemia in cui abbiamo visto di tutto e il contrario di tutto, da cui stiamo uscendo peggiorati, specialmente in quella fascia di età che va dai tre anni ai sedici anni, che è l'ambito di cui mi sto occupando in modo particolare in questo periodo e al quale prestiamo attenzione particolare anche con assistenze specializzate, specifiche di psicologi e psicologhe, specialmente per i bambini, che sono usciti devastati da questa. La sola mascherina imposta ai bambini nelle scuole, per esempio, ha creato un disagio emotivo perché ha impedito ai bambini di interloquire con il linguaggio non verbale con le maestre e i maestri e questo ha inciso anche sulla loro incide sulla loro capacità di apprezzione. Oggi si stanno facendo degli studi in materia ed è bene che si facciano ed è indispensabile necessario che il governo o i governi regionali e locali stanzino dei fondi per aiutare i bambini ad uscire accompagnati da questa situazione. Io ho visto per esempio situazioni in cui le parrocchie, la CEI si sono preoccupati esclusivamente del culto, cioè di aprire le chiese per poter dire messa, notate che dico le parole testuali e uso parole appropriate per dire messa, dire messa e sapete qual è il motivo che a molti vescovi e a livello del consiglio della CEI è stato alla base di questa di questa trattativa anche con il governo mi hanno detto in toni anche duri e se voi ci fate caso tutte le attività erano chiuse tranne le chiese dove non c'era nessun obbligo di natura sanitaria e il motivo risiede era che la gente avrebbe perso l'abitudine di andare in chiese questa era la preoccupazione dei vescovi a questo punto allora io dico che è meglio chiudere le chiese e ricominciare da capo perché ritorniamo al tema di questa sera guardate che fa quadrato in quanto questi comportamenti questi comportamenti queste impostazioni sono puramente impostazioni che si capiscono in un ambito di religiosità la religione ha bisogno di due cose ha bisogno di luoghi precintati che si definiscono sacri e ha bisogno di tempi che si definiscono liturgici o rituali il tempo e lo spazio sono proprietà e caratteristiche fondamentali della religiosità la religione non esige un atteggiamento di coscienza la religione esige che si compiano degli atti tant'è vero che tutti noi siamo stati educati con il catechismo dell'assistere alla messa e durante la messa uno si poteva confessare oppure poteva dire il rosario per conto proprio almeno fino al 1967 era così nelle chiese c'erano due o tre confessionali per permettere alle persone che erano presenti di non partecipare né alla messa né di fare una confessione decente e si poteva assistere alla messa fisicamente perché tanto è vero che fino al 1967 la messa era valida dallo scoprimento del calice quello che veniva impropriamente chiamato offertorie nella diocesi di Genova in Corso Firenze nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie di Corso Firenze c'era un parroco che aveva messo due semafori al portone della chiesa uno rosso e uno verde quando lui saliva all'altare dopo aver fatto la predica e sull'altare c'era il calice coperto dal velo e un attimo prima di scoprire il calice si girava indietro pigiava il pomello rosso appariva il semaforo fuori della chiesa così quelli che arrivavano in ritardo vedevano il rosso e andavano via come se avessero visto un toro e andavano a cercarsi la messa da un'altra parte che cosa voleva dire andare a messa voleva dire semplicemente che non bisognava fare peccato perché non andare a messa la domenica era un peccato grave già queste affermazioni dicono come siamo completamente fuori luogo e fuori tempo e fuori di testa lasciatemelo dire fuori di testa poi venne il concilio Vaticano II e la timida riforma di Paolo VI che fu oppresso e diciamo accerchiato da diverse istanze contrapposte e ha dovuto barcamenarsi con l'uno o con l'altro logicamente dando come impronta formale impronta molto forte alla riforma del concilio e cocciutamente ha voluto portarla in avanti fino in fondo logicamente poi quando le febbre fece diciamo cominciò a fare le carte 48 Paolo VI dopo il 68 cominciò un attimo a dubitare a fare ad essere meno innovativo e oggi ci troviamo in una in una situazione storica con un Papa Papa Francesco che ha voluto ricominciare dal concilio il suo punto di partenza è stato il concilio Vaticano II che ha definito irreversibile un fatto irreversibile riprendendo le parole di Papa Giovanni che lo aveva definito una pentecoste questo vuol dire che oggi se noi ci guardiamo attorno abbiamo moltissimi cattolici che aspettano che questo Papa muoia perché ne venga un altro che metta a posto le cose e questo avviene sia nella gerarchia anche tra i cardinali almeno di undici siamo sicuri perché hanno scritto anche un libello contro il Papa di qualcuno continua ancora continua apertamente a contrastarlo sia all'interno della curia sia fuori della curia se avete fatto caso quando il Papa ha nominato il suo consultorio come usano i gesuiti gli otto cardinali e i suoi consiglieri e quando ha nominato i capi di Castero li ha nominati quasi tutti che pensano al contrario di lui e questo dimostra la grandezza dell'uomo perché si sceglie non le persone ossequienti o le persone che dicono et cum spirito tuo ma le persone che possano dialogare contrastare e stare anche in conflitto proprio perché la verità deve nascere dal confronto dalla libertà del confronto e invece queste persone molte persone di queste come la storia ha dimostrato si sono serviti del loro potere per chiacchierare a livello proprio clericale per chiacchierare alle spalle del Papa il quale ha le spalle molto robuste ed è in grado di essere stabile da sé però tutto questo dove ci porta? Ci porta ad un fatto semplice e cioè che noi siamo intrisi di religione che abbiamo appreso al catechismo e lasciatemi dire anche con una frase ad effetto che secondo me e credo questo di dimostrarlo nella prossima se ci riuscirò a pubblicarlo nel prossimo lavoro che sto preparando uno dei tanti che sto preparando il catechismo è stato di fatto ed è di fatto ancora oggi una scuola di ateismo pratico perché insegna ai bambini quello che non devono fare da grandi nel senso che finita la comunione o finita ancora meno la cresima buonanotte al secchio e chi si è visto si è visto poi qualcuno si ritornerà per il matrimonio se ci ritorna sappiate che ormai il 56% dei matrimoni in Italia si celebrano in comune il che non è una cosa negativa perché è un'azione pubblica giuridica sotto la legge e per questo bisogna che anche noi la valorizziamo d'altra parte nei primi secoli il matrimonio non si svolgeva in nessuna chiesa era l'impegno di due famiglie che presentavano i propri figli alla società e gli davano l'autorizzazione pubblica di fare sesso senza proibizioni e senza limiti d'altra parte se voi prendete la parabola di Giovanni 2.1.12 cioè le cosiddette nozze di Cana voi trovate che è un po' il cavallo di battaglia nel catechismo che è quello di Gesù ha santificato il matrimonio con la sua presenza le nozze di Cana beh mi sapete spiegare perché nelle nozze di Cana del Vangelo di Giovanni non c'è la sposa com'è possibile un matrimonio senza la sposa e com'è possibile un matrimonio con uno sposo che c'è solo per essere rimproverato per non essere stato in grado di calcolare la quantità di vino per quelli dati allora vuol dire che quello del Vangelo vuol dire dell'altro molto altro di cui noi non abbiamo assolutamente il senso per un semplice motivo abbiamo perduto il contesto culturale il contesto sociale e il contesto religioso del tempo di Gesù perché se noi conoscessimo oggi quella che è la tradizione letteraria e culturale dell'ebraismo forse comprenderemo il 95% del Vangelo ma senza le tradizioni della Mishnah del Talmud noi non possiamo capire appieno il Vangelo e allora perci che cosa ci rifugiamo ci rifugiamo nella religione e ha ragione Bertrand Russell quando dice che la religione è fondata sulla paura vediamo di approfondire questo la religione ha bisogno di sacerdoti cioè ha bisogno di una casta che sia separata dal popolo ma che abbia la funzione di mediatrice cioè di mediare la presenza del divino di cui è non solo rappresentante ma portatrice della volontà questo per esempio nei monasteri negli seminari nelle in tutti i centri cattolici di formazione il superiore era quello che determinava la volontà di Dio l'obbedienza non era al superiore ma era alla voce di Dio che passava attraverso il superiore e quando si è arrivati fino al punto di dire che quando suonava la campana per gli orari e per le cose la campana era la voce della volontà di Dio penso che Don Mario questa esperienza l'abbia vissuta come l'ho vissuta io e come l'ho vissuta Monsignor Bettazzi come l'abbiamo vissuta tutti no? cioè l'attenzione non era alla fede ancora oggi nel catechismo non interessa la persona non interessa il cammino della persona ma interessa fare la prima comunione che è veramente una una cosa a mio parere senza senso per fare la prima comunione e allora cito a riguardo sempre una una frase del discorso che ho fatto lunedì scorso con con Dino Biggio e lo cito da da Arturo Paoli l'avete mai detto in chiesa che andare a messa è come iscriversi ad una azione di guerriglia l'avete mai detto che coloro che partecipano alla messa stanno facendo l'atto più pericoloso del mondo avete mai detto ai genitori che presentano i bambini per prepararli alla prima comunione ma ci avete pensato bene in che pericolo li state mettendo noi che cosa facciamo il catechismo che dovrebbe essere il prolungamento della Bibbia cioè il prolungamento del cammino di conoscenza e di profondità verso la parola di Dio sulla parola di Dio con la parola di Dio noi ci prepariamo esclusivamente ad un atto di culto con i bambini separati dai genitori con i bambini separati dalla comunità questo per forza poi porta i bambini ad una ad una ad una disaffezione anche perché il catechismo è impostato sul calentario della scuola ed è impostato con gli stessi criteri della scuola le stesse vacanze lo stesso zaino lo stesso astuccio gli stessi quaderni gli stessi tavoli le stesse modalità della scuola com'è possibile fare un'esperienza di Gesù Cristo con questi mezzucci con questi mezzucci occasionali in cui tra l'altro chi fa catechismo sono tutte persone rispettabili venerabili da mettersi in ginocchio davanti a loro ma non hanno alcuna preparazione che si basano prevalentemente sui Vangeli dell'infanzia cioè sui Vangeli apocrifi dell'infanzia e non conoscono non conoscono bene sì quello insegnano quello che loro hanno sperimentato e lo fanno bene seguono il libro seguono il libretto però dovunque io sono andato a parlare con i catechisti in tutti questi anni ormai sono 40 anni che c'è un esperimento come dei testi io sono con voi venite con me e tutte queste cose qui ho chiesto a tutti i catechisti ma voi seguite per esempio i disegni di io sono con voi sapete come sono stati pensati questi disegni per i bambini dei sei agli otto anni nessuno mi ha saputo dare una risposta eppure la pedagogia era basata esclusivamente sul disegno proprio perché i bambini hanno un'immaginazione molto forte ecco educare alla religione significa educare all'ateismo fermarsi sulla religione significa incrementare l'ateismo e farlo radicare e guardate che non lo dice Don Paolo perché è strano lo dice il concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes al numero 19 e 20 causa dell'ateismo moderno sono i cristiani stessi che con la loro vita o il loro modo di presentare Dio oscurano il volto di Dio piuttosto che svelarlo cito a memoria quindi che cosa vuol dire questo vuol dire che noi siamo responsabili come chiesa come struttura come organizzazione ma anche come diciamo se c'è un popolo di Dio io ho dei dubbi su questo se c'è e anche del popolo di Dio qual è il senso che noi dobbiamo avere come persone che vivono nel mondo e che devono rendere visibile Dio noi abbiamo coscienza e consapevolezza che siamo responsabili della credibilità di Dio perché Dio nessuno l'ha mai visto dice Giovanni 1.18 Dio nessuno l'ha mai visto il figlio di Dio non lo ha rivelato la traduzione della CEI è peccaminosa perché il testo non dice il figlio l'ha rivelato questo è un addomesticamento della parola di Dio e non è solo questa ma il testo dice exeggesato ne ha fatto l'esegesi ne ha dato la spiegazione lo ha fatto rivivere attraverso il suo volto e attraverso la sua azione perché Gesù è il davar che ci ha portato una doppia esperienza di Dio la conoscenza e la fisicità noi in Gesù possiamo toccare il padre la caratteristica della religione dicevo è il sacerdozio o gli sacerdoti qual è la funzione del sacerdoti quello di dominare le coscienze quella di dirigere le coscienti quella di controllare le coscienti attraverso una un controllo diciamo metodico e in modo particolare attraverso il controllo della morale e cioè in modo particolare ancora attraverso il controllo della sessualità per generazioni intere i preti i sacerdoti hanno rovinato intere generazioni io vi potrei raccontare di mia mamma vi potrei raccontare di altre persone vi potrei raccontare di tutto quello che ho ascoltato e oggi ci sarebbe non solo da mettere le mani le mani ai capelli ma ci sarebbe da arrossire e vergognare perché certe cose non avvenivano nemmeno durante l'inquisizione io non so chi di voi abbia letto il testo di Malleus Maleficaru che è il martello delle streghe che era uno dei testi fondamentali dell'inquisizione delle 1500 specialmente in Spagna e in Germania e in questo da questo testo fatto da due Domenicani malati di mente e psicopatici vengono fuori i metodi di controllo che serviva loro per poter come dire avere un come dire osservavano sperimentavano vedevano le donne nude vedevano le 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 torture e perché a loro era teoricamente tutto proibito e questo era una forma di appagamento oggi la psicoanalisi e la psicologia avrebbero veramente tante cose da dire Dreverman è uno psicologo che come Carlo Molari è stato spretato diciamo uno psicologo tedesco ha scritto un libro che a mio parere è fondamentale per la comprensione di questo che parla dei preti come dei funzionari di Dio che cos'è la chiesa materiale dove noi andiamo e partecipiamo la chiesa è una stazione ferroviaria dove ognuno si serve di quello che gli è utile in quel momento per cui uno va e dice mi dice una messa accendo una candela faccio un'offerta e poi in cambio ho bisogno se io ti do una cosa tu mi devi dare l'equivalente perché vado in un negozio a comprare senza sapere per esempio che la messa così la messa pagata è una invenzione del primo medioevo proprio per sovvenire alle necessità per poter pagare un po' in parte i preti quella si chiama offerta canonica riservata al prete in una famiglia invece ci dovrebbe essere la gratuità totale perché in una famiglia nessuno vende o compra e ci deve essere un rapporto affettivo il sacerdote per definizione è in base alla scrittura la Bibbia è un corruttore lo abbiamo accennato dove il cascorto se vi ricordate ho accennato alla figura di Aronne che per non perdere il proprio la propria scendenza per non perdere il proprio potere sul popolo segue il popolo creando un idolo per il popolo e raccogliendo loro e cantando inni e osanna a questo dio che è un dio nella forma degli dèi egiziani il contrario delle sacerdote e quindi della religione è il profeta e il contrario della religione è la fede la fede e la religione non possono stare insieme perché sono come il diavolo e l'acqua santa perché la fede è una questione esclusivamente di cuore e di coscienza colui che crede è uno innamorato è una innamorata è solo la scusate che mi dice che la batteria qui spero ecco mi dice che la batteria è quasi collegata ma io l'ho collegata ecco ecco scusate questo incidente vi dicevo che il il sacerdote ha bisogno di un dominio sulle coscienze e quindi di essere il garante della protezione divina che lui garantisce attraverso una compartecipazione da parte dei fedeli che non è in funzione di una responsabilità ma è in funzione di ottenere qualcosa se voi leggete i profeti per esempio Amos che si rivolge il profeta Amos oppure il profeta Osea oppure il capitolo già il capitolo primo del profeta Isaia voi vedete dal versetto 10 in poi del capitolo primo di Isaia voi vedete che fotografia c'è della chiesa attuale venite a calpestare i miei atri e intanto pensate a come frudare le bilance e intanto vendete il povero per un paio di sandali e intanto pensate un'economia che è in funzione vostra e non in funzione della collettività ecco come mai noi non conosciamo la scrittura che ci dà la via che ci dà l'orizzonte che ci dà la 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 prospettiva allora ecco qui che viene la fede di cui parla Gesù e la fede di cui parla Paolo la pistis nell'Evangelo è un atto d'amore cioè quando uno si innamora non capisce più nulla perché non ha più tempo non ha più spazio anzi io sono solito dire che amare è perdere tempo per la persona amata è soltanto chi ama è capace di stravolgere la propria vita perché ama l'altra persona senza pretendere in cambio nulla ed è questo il senso della parola agape nella Bibbia se voi leggete il capitolo 13 di la prima Corinzi dove dice se anche parlassi le lingue degli uomini degli angeli eccetera 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 e non avessi l'amore ma cosa vuol dire l'amore in greco c'è agape e bisogna mantenere questa parola perché la parola amore in italiano è una parola povera molto povera mentre nella nella nell'agape l'agape comprende tre cose per San Paolo comprende l'eros comprende la filia che è l'amicizia di scelta l'eros è l'amore di attrazione è l'amore del bello purtroppo noi l'abbiamo l'abbiamo confinata nelle porcherie l'eros l'eros è una delle parole più splendide che noi abbiamo in tutta la letteratura greca specialmente del Nuovo Testamento l'amore erotico è l'amore che attrae per la sua bellezza e che ti fulmina sul momento perché tu non puoi andare da un'altra parte perché ti blocca perché ti attira ti attrae e in questo senso dobbiamo leggere la definizione del pastore in Giovanni X il pastore calos il pastore bello perché la sua bellezza è talmente grande è talmente forte che tu rimani abbacinato dalla sua bellezza che non è l'estetica non è l'estetica l'estetica è qualcosa di esteriore la bellezza è l'eros è qualcosa che prendono l'anima che prendono il cuore che prendono la mente prendono il pensiero ti prendono la vita ti attorcigliano e tu non hai più né fame né sete non senti più nessun bisogno perché sei pieno questo è l'amore della totalità e la parola agape nella Bibbia vuol dire proprio questo eros filia l'amore di scelta io ti scelgo perché tu sei la parte migliore di me non perché tu mi dai qualcosa non perché tu mi completi e anche quando tra le persone c'è un rapporto per esempio tra uomo e donna tra persone innamorate tra persone che siamo si fa un discorso del 50-50 del 50% questo è un discorso esclusivamente di prostituzione perché l'amore può reggere soltanto a due condizioni nella libertà perché senza la libertà non ci può essere amore e nella donazione di sé all'altro senza pretendere in cambio perché l'altro è la parte è la parte migliore la parte più bella di te e tu senza dell'altro non hai senso perché l'altro diventa il senso della direzione della tua vita e infine c'è la gape la gape che è notate che nella Bibbia ricorre più di 400 volte se non vado errato si usa quasi esclusivamente solo per Dio soltanto Dio sa amare in questo modo e l'amore di Dio è tale che si dona a noi lasciandoci liberi e lasciandoci così come siamo senza pretendere nulla da noi questo per esempio è interessantissimo perché lo troviamo in Genesi 12 1 vi ricordate quelle vattene Abramo Dio disse ad Abramo vattene dal tuo paese vattene dal tuo paese dalla tua dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre ecco anche così traduce la nuova Bibbia la nuova traduzione di Enzo Bianchi e su questo io gli faccio un appunto e glielo manterò così come gli manterò diversi appunti su diversi punti della traduzione sia dall'ebraico che dal greco ma è una bellissima versione della Bibbia se potete prendetela questa sono tre volumi ed è molto molto bella la prima versione nella Bibbia dopo la vulgata guardate che cosa vi oso dire dopo la vulgata che è senza finalità ma è una traduzione finalizzata alla parola ed è questo la bellezza la pienezza di una traduzione purtroppo ci sono le note che dovrebbero essere più più precisate più anche graficamente più curate però è una bellissima versione però c'è nella Genesi 12 la vocazione cosiddetta di Abramo che si usa quasi sempre a proposito e a sproposito dell'obbedienza di Abramo di tutte queste cose qui che mi fanno venire il latte alle ginocchia tanto sono così superficiali la prima parola che Dio dice entrando nella storia con la storia dell'alleanza di Abramo è in ebraico sono queste due parole lek leka che tradotte alla lettera vogliono dire non ne battene ma vai verso te stesso vai verso te stesso dal tuo paese dalla tua parentela dalla da tuo padre pi 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 paese parentela padre e secondo me bisognerebbe tradurre così perché c'è la il paese il paese e la geografia è il contesto dove tu sei nato sono le tue origini la parentela è la tua cultura il padre sono i tuoi affetti vai verso te stesso cioè non puoi più vivere di rendita della cultura del tuo del luogo delle tue origini non puoi più vivere di cultura indotta non puoi più vivere di affetti consolidati ma tutto questo deve diventare materia di viaggio e dopo questo imperativo lec leca vai verso te stesso seguono dieci verbi tutti al futuro tutti al futuro perché il dio di abramo è il dio che non garantisce nulla se non nella sua parola ed è quando poi questo dio di abramo si presenterà Mosè al profeta Mosè il dio di abramo dirà che purtroppo anche qui la traduzione che fa anche Enzo Bianchi è io io sono chi sarò mentre la traduzione che secondo me è più corretta e anche grammaticalmente corrispondente al testo ebraico io sarò chi sono stato io sarò nel futuro chi sono stato nel passato chi sono stato nel passato se voi leggete il capitolo primo al versetto quinto per esempio di Giosuè voi sentite questa espressione di dio a Giosuè io sarò sempre con te e come traduce l'apocalisse queste questa parola questa definizione di dio lo traduce con colui che è che era e che viene il futuro che viene è un futuro dinamico è un futuro sempre in continuazione ma che era così come nel capitolo primo di Giovanni parlando del logos si dice che il logos in principio era era che non è un imperfetto questo gli esegeti lo chiamano l'imperfetto divino per dire che è un passato che non ha principio non ha origine che non ha presente ma è un continuo permanente e allora il profeta è colui che si pone come dicemmo lunedì scorso che si pone davanti a dio profaino ed è anche il profemi cioè è anche l'uomo che parla non in nome di dio cioè il profeta non è colui che viene a svelare la volontà di dio ma colui che parla per conto di dio cioè colui che aiuta a capire i segni della storia i segni della vita gli avvenimenti e ci insegna a leggerli alla luce di quello che è avvenuto nel passato ma quando noi celebriamo l'Eucaristia che cosa facciamo? Non facciamo forse il memoriale non facciamo forse lo zikaron ebraico cioè non sperimentiamo in quel momento quello che Gesù ha fatto altro che sacrificio qui c'è qualcosa di molto più grande oggi c'è una corrente molto diffusa una corrente molto ampia di teologi che mettono in discussione il concetto di sacrificio perché il concetto di sacrificio riprende ancora la funzione del sacerdotio del tempio oppure la funzione dei sacerdoti dei templi antichi che avevano bisogno del sacrificio per ubriacare Dio il fumo che sale e qui potremmo fare un sacco di discorse da un punto di vista biblico veramente un sacco di discorse perché il gradimento di Dio avviene attraverso le narici Dio quando c'è un sacrificio di animali si mette da sopra le nubi sull'altare sull'ara e con le narici allarga le narici e respira il fumo dell'arrosto e ingrassa e ingrassa perché il il gradire questo profumo profumo di carne profumo di animale è proprio l'appagamento per un Dio che è basato semplicemente sul corrispettivo del mercato ed è una costruzione che avviene da parte dell'uomo e al contrario già all'epoca al tempo di Gesù c'erano i i rabbini che dicevano che passare la notte studiando la parola di Dio equivale a compiere tutti i sacrifici nel tempio di Gerusalemme studiare la parola che cosa fa Giovanni Giovanni non parla mai dell'eucaristia nel suo mangi la sostituisce con la lavanda dei piedi e cioè che non è solo il servizio non è solo il servizio la lavanda dei piedi è ancora molto ma molto di più chi dedica la notte allo studio della Torah è considerato dalla scrittura come se avesse partecipato al sacrificio del tempio Rabbi Yohanan uno dei più grandi maestri di Israele quello che visse durante la distruzione del tempio di Gerusalemme e che chiese a Tito di poter svolgere la sua attività di ricercatore biblico nella cittadina di Yavne vicino Tel Aviv attuale Tito glielo concesse e lì nacque l'ebraismo di oggi l'ebraismo di oggi è il discendente del fariseismo nel senso più positivo del termine cioè è la corrente dei farisei del Vangelo che continuano ancora oggi e che devono la nascita proprio al Rabbi Yohanan il rapporto tra religione e fede dunque è un rapporto di principiante dico io dico che la religione può anche essere utile per un primo approccio per un principio per un inizio per un primo passo però poi o sfocia nella fede oppure non diventerà mai un rapporto con Dio perché si basa esclusivamente sulle cose si basa sugli atti si basa sui gesti si basta sulle folclore la processione questo tanto è vero che sono diventate tutti atti folcloristici in cui di religioso di profondo non c'è assolutamente nulla io non dico che bisogna disprezzarli sia chiaro non sto disprezzando nulla perché io amo molto la cultura popolare e la difendo però dico che bisogna avere la capacità critica di distinguere le cose e non di fare una mutiata il rapporto tra la religione e la fede è questo è il rapporto tra chi ha bisogno di protezione e quindi mette in atto delle cose per avere questa protezione a buon mercato ma lo fa di volta in volta mentre la fede è un atteggiamento interiore è un atteggiamento spirituale che nasce dall'affetto nasce dall'amore nasce dall'esperienza perché l'amore non può non può essere come dire pensato l'amore pensato è una deviazione tant'è vero che oggi in psicologia si curano le persone che vivono un amore in rete no? cioè un amore senza contatto un amore senza rapporto un amore senza toccarsi un amore vissuto puramente così che è tipico delle persone non solo fragili ma delle persone che non hanno compiuto un'affettività la maggior parte dei preti pedofili sono in questa dimensione non hanno sviluppato una affettività completa e quindi l'anno sono adulti ma con un'affettività infantile e vi potrei anche raccontare diversi episodi di questo in questo livello da questo livello di persone che ragionano come bambini a livello sessuale e affettivo la tragedia dov'è? che sono adulti sono adulti e questa è la responsabilità primaria nella formazione nella formazione cioè che bisogna non solo riformare i seminari secondo me bisogna chiudere completamente perché i sacerdoti scusate non uso mai il termine sacerdoti i preti devono essere formati nell'ambiente della vita perché devono comunicare con le persone attraverso gli strumenti della vita attraverso gli strumenti della storia qual è la caratteristica del cristianesimo che lo differenzia da tutte le altre religioni oggi superficialmente si parla per esempio si dice si usa l'espressione religioni orientali e con queste si intendono il bramanesimo il buddismo l'indurismo oppure alcune religioni alcune pratiche indiane eccetera però se voi andate in Giappone in Cina in Asia e parlate di religioni asiatiche o di religioni orientale prima di tutto vi ridono in faccia e secondo non ve la passerete molto bene perché loro non hanno il concetto di religione si rifiutano di essere religioni perché sono teosofie quelle orientali cioè sono strumenti per impostare attraverso il corpo che deve essere dominato e qui siamo vicini al platonismo e al neoplatonismo sviluppano prevalentemente la dimensione spirituale che deve liberarsi dalla pesantezza della materia dunque c'è una distinzione netta tra materia e spirito anche le stesse arti marziali non sono nati come arte di difesa ma come esercizio per raggiungere il nirvana quella che i padri della chiesa dei primi tre secoli chiamavano la tarassia cioè chiamavano la separazione totale l'impassibilità l'impassibilità e in modo particolare le religioni cosiddette un altro elemento molto improprio che noi utilizziamo è le religioni del libro non esistono religioni del libro la religione del libro non è l'ebraismo la religione del libro non è il cristianesimo la religione del libro non è l'islamismo perché l'ebraismo è la religione dell'alleanza il libro viene dopo tant'è vero che per esempio la tradizione orale che per gli ebrei ha la stessa importanza della tradizione scritta della Torah avviene nel secondo secolo dopo Cristo e nel sesto secolo dopo Cristo nel secondo secolo viene messa per iscritta la Mishnah che Gesù conosceva a memoria perché era una tradizione orale e nel sesto secolo per non perdere l'insegnamento dei maestri dal terzo secolo avanti Cristo in poi si mette per iscritto il Talmud uno a Babilonia e uno a Gerusalemme e uno in Palestina per cui se ne hanno due ecco queste sono le materie che servono per regolare per regolare la vita il comportamento sociale con gli altri il rapporto con gli altri quindi non è il cristianesimo religione del libro perché il cristianesimo è semmai l'evento dell'incarnazione se c'è un elemento unico nella storia religiosa dell'umanità questa è l'incarnazione se poi ci aggiungete anche l'elemento improponibile assolutamente improponibile questo lo capite bene della Trinità il cristianesimo è incompatibile con qualsiasi altra religione però queste cose bisogna dirle e quando si fa il dialogo con le altre religioni non bisogna essere irenisti ma bisogna mettere sul tavolo proprio le differenze perché è soltanto dallo studio delle differenze dall'approfondimento delle differenze che possiamo comprendere quali possono essere i punti di contatto con gli altri nel pieno rispetto del pensiero ed è la storia di ciascuno e religione del libro non è l'Islam perché l'Islam semmai è la religione della dettatura qui vi potrei dire quello che avviene nelle università nelle università arabe voi sapete che Maometto non era un grandissimo letterato come la maggior parte degli autori religiosi la Bibbia ha 72 73 libri che sono come dire la maggior parte quasi tutti anonimi invece per Maometto il Corano il Corano vuol dire lettura libro il Corano è una dettatura di Dio se è in dettatura di Dio non si può cambiare e siccome non era un grande letterato non conosceva bene la lingua in cui scriveva vi sono moltissimi errori moltissimi errori di sintassi moltissimi errori anche di grammatica ebbene nelle università si insegna l'arabo con gli errori del Corano nelle grammatiche e nelle sintassi poi nelle note si aggiunge che si può dire anche in un modo diverso e si mette la forma corretta i musulmani secondo me hanno bisogno di un tempo almeno pari a quello che ha avuto i cristiani i cristiani prima e poi i cattolici almeno tre secoli di studio di approfondimento di consuetudine non letterale con i loro scritti per poter arrivare ad una lettura critica del testo e allora se l'ebraismo è la religione dell'alleanza che è un rapporto storico storico perché si fa attraverso un impegno scritto e questo impegno scritto non significa scritto con la matita vuol dire che ci si scambia anche per la validità il sandalo il sandalo che diventa un contratto scambiarsi il sandalo vuol dire scambiarsi l'atto di proprietà oppure scambiarsi come avviene per esempio con Abramo quando compra la tomba di Machpel dove deve seppellire Sara ecco percorrono il tratto che interessa poi si scambiano il sandalo uno di questi un residuo di questi lo troviamo per esempio in Giovanni quando Giovanni Battista dice io non sono degno di sciogliere i sandali che non vuol dire che è un atto di umiltà ma è un atto di alleanza io non valgo nulla perché non sono io che devo fare l'alleanza con il popolo ma è lo sposo ecco se noi parliamo di religione noi parliamo di eventi storici eventi storici fatti storici che si sono sviluppati in un certo modo ma non possono mai essere confusi con la fede la fede è fare un'esperienza personale è solo personale un'esperienza sconvolgente travolgente un'esperienza che ti rapisce dice Geremia capitolo 20 versetto 7 mi hai sedotto signore e mi sono lasciato sedurre la Bibbia di Enzo Bianchi traduce mi hai ingannato e io mi sono lasciato ingannare che si potrebbe anche tradurre come mi hai imbrogliato cioè la seduzione è anche questo cioè la persona innamorata vi ricordate la l'amante del cantico dei cantici come pazza ad andare in giro per la notte immaginate soltanto una ragazza ebraica che vada in giro per la notte durante la notte cosa impossibile cioè assolutamente non è possibile questa è da galera da fucilazione sul posto una ragazza eppure lì il canto il canto nuziale perché non è un canto ebraico quello quello è un canto preso da altre culture che poi è stato inserito nella Bibbia tanto è vero che è l'unico Bibbia insieme con Esther dove il nome di Dio non viene mai nominato non c'è mai il nome di Dio a capitolo ottavo c'è semplicemente una frase ma che è un iperbole un superlativo fiamma di Dio e l'amore per dire che per dire che l'amore è proprio proprio è inutile con l'amore si perde chi è innamorato è un perdente perché è travolto dall'amore e l'amore lo possiede nessuno dice Khalili Shubran il profeta secondo me è un profeta un grande pensatore del Medio Oriente che dice l'amore non può essere posseduto l'amore solo possiede perché ti abbranchia ti prende ti alimenta ti trasforma la vita ora o un cristiano è un cristiano innamorato il battesimo che cos'è il battesimo io dal battesimo ho tolto qualsiasi riferimento specialmente il battesimo ai bambini qualsiasi riferimento al peccato originale primo da un punto di vista biblico non è sostenibile il peccato originale secondo da un punto di vista storico antropologico non è sostenibile perché non è possibile perché l'origine dell'umanità è contemporaneamente almeno in cinque punti diversi della Terra e il primo punto più importante è l'Etiopia l'attuale corno d'Africa poi l'Australia poi forse il Polo Nord intorno al Polo Nord e via di seguito poi l'Asia quella l'Asia minore dove siamo la Turchia e quindi non è sostenibile come facciamo a parlare di peccato se voi ci fate caso nel catechismo e nella religione il concetto di premio di castigo e di né premio né castigo ma ti do uno scappellotto che è il purgatorio sono indispensabili perché attraverso il premio e il castigo tu tieni a bada il gregge con le redini nella bocca il premio se tu sei buono io ti premio se sei cattivo io ti castigo inferno e paradiso vi siete mai domandati quali quali criteri sono questi? sono i criteri del tribunale tu hai disatteso la legge io ti castigo tu hai osservato la legge io ti premio oggi non avviene nemmeno questo perché chi ha disatteso la legge secondo il Parlamento italiano è premiato chi ha osservato la legge per esempio che ha sempre pagato le tasse viene punito perché essere onesti oggi è da imbecilli da stupidi però un cristiano preferisce fare la figura dello stupido e del cretino piuttosto che venire meno ad un impegno sociale che è quello di collaborare al mantenimento degli altri specialmente dello stato sociale specialmente dei più poveri e dei più bisogno dei più fragili dell'ospedale da campo di cui parla Papa Francesco e quindi la religione castigando e premiando costruisce un sistema in cui Dio è giudice giudice severo giudice che sta sempre col fucile in mano per vedere se tu io mi ricordo guardate certe confessioni che mi facevano proprio impallidire oppure quanto confessavo la gente e ho confessato anche tanto però oggi quando io confesso io mi siedo in modo da essere io rivolto beh io non confesso più nel confessionale perché non ce li ho nemmeno cioè ci mettiamo lì vicino a un tavolo uno da una parte ma io mi siedo in modo da guardare il crocifisso è la persona che è con me con le spalle al crocifisso perché il crocifisso lo devo guardare io che non devo mai giudicare perché se la vocazione di Abramo è di andare verso se stesso perché soltanto nella conoscenza di sé nella profondità di sé può sperimentare la presenza di Dio se c'è io devo pensare sempre quando mi trovo di fronte ad un altro che è lui che è morto in croce non io ecco perché io questa sera vi posso dire che in tutta la mia vita a novembre sono 50 anni che esercito il ministero e il servizio di prete io non ho mai mai negato l'assoluzione a una persona mai molte volte abbiamo d'accordo celebrato il sacramento della penitenza a più tappe cioè in due tre quattro volte anche di più proprio perché non è una cosa meccanica non è una cosa meccanica è un percorso è un cammino perché è una è il riaprire di nuovo la possibilità di poter rinvidirsi lo sguardo per vedere il cammino con più lucidità e poter allargare le braccia verso qualcun altro che le tiene sempre aperte per accoglierti ecco questo secondo me è la fondamentale differenza io ho sentito tantissimi miei confratelli che dicono ah io ho negato la soluzione ah io di qua io di là perché ecco questo è il diritto canonico ma il diritto canonico è indispensabile io non lo metto in discussione ma quando mi trovo con davanti ad una persona che mi chiede una mano per fare chiarezza nella sua vita lec leca vai verso te stesso allora io preferisco tentare qualsiasi cosa per facilitare l'incontro con Dio per renderlo più 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 possibile per elevare qualche intralcio per senza essere come severi perché la severità non porta da nessuna parte non mette la rigidità dice Papa Francesco viene proprio tipica del clericalismo è una delle caratteristiche del clericalismo e il clericalismo è il frutto maturo della religione perché la religione senza clericalismo non può esistere ha bisogno come diceva il Richelieu il capo di stato francese la polizia ha bisogno della spada per governare un popolo ci vogliono due cose la spada e la religione la spada per governare i corpi la religione per governare le coscienze attraverso la religione in che punto si situa il profeta il profeta è per sua natura non è colui che predice il futuro il profeta è per definizione strabico deve essere strabico perché deve avere un occhio rivolto a Dio e un occhio rivolto al popolo e contemporaneamente li deve mettere a fuoco tutte e due non può stare dalla parte di Dio non può stare dalla parte del popolo ma è quello che sta in mezzo e li tira li tira li tira li tira fino a farli incontrare ecco grande la figura del profeta il profeta quello che ha fatto per esempio per tutta la sua vita Arturo Paolo e non è un caso che comincia a parlare diciamo che parla in un modo in un modo strepitoso dopo morte perché in base al Vangelo se il chicco di grano non muore non porta frutto e i profeti probabilmente devono morire per portare frutto come il grano il profeta il profeta dei profeti e Mosè nel capitolo 34 dell'Esodo Mosè utilizza una psicologia talmente grande che secondo me si potrebbe fare veramente un trattato di psicologia quando Dio gli dice senti Mosè facciamo una cosa mandiamo al macero questa massa di ignoranti ebrei che non capiscono niente perché di qua e perché di là e noi due ci facciamo un altro popolo andiamo per i fatti nostri ce lo facciamo su nostra misura Mosè lo ascolta e dopo gli risponde e gli dice senti Signore Dio se tu vuoi farti un altro popolo sei libero di fartelo lì c'è la porta ma se tu fai questo ricordati che cosa penseranno gli altri popoli diranno bello il Dio degli ebrei che li ha fatti uscire dall'Egitto che gli ha fatto cose grandi gli ha fatto il Nilo macchiato di sangue ma gli ha fatto questo li ha portati nel deserto gli ha fatto passare il Mar Rosso prosciugato dalle acque con il Fom all'epoca c'era il Fom e Dio usava il Fom non dimenticatelo mai perché lo aveva sempre addosso per asciugare le acque del Mar Rosso e che cosa diranno li ha portati così per ingannarli per ammazzarli che Dio perverso questo è Dio desistette dal suo proposito di nuocere al popolo il profeta è colui che si oppone a Dio per difendere il popolo anche quando ha coscienza che il popolo sbaglia perché il popolo è l'acqua naturale dove il profeta vive e non annega mai perché ha consapevolezza di essere parte integrante di questo popolo e nello stesso tempo fa presente le esigenze di Dio e dice al popolo senza risparmiargli nulla voi avete peccato dovete riparare al male fatto dovete convertirvi cosa fa il Vangelo di Matteo il Vangelo di Matteo porta cinque discorso in bocca a Gesù e perché per presentarlo come il profeta Mosè Gesù è l'erede di Mosè e Mosè è colui che alla fine del Deuteronomio nel terzo discorso dice dopo di me verrà un profeta che voi ascolterete e questo profeta secondo la tradizione cristiana è Gesù che cosa fa Gesù? Gesù predica il regno di Dio come l'abbiamo tradotto noi in questo regno di Dio lo abbiamo rimandato a dopo morte dopo morte noi parliamo dell'aldilà della morte del paradiso della risurrezione parliamo di queste cose senza saperne niente dovremmo essere molto più umili e molto più dubbiosi Teresa Davila ha vissuto tutta la sua vita nel dubbio dell'esistenza di Dio e se ha potuto vivere lei tutta la sua vita notate che gli hanno proibito non non l'hanno destituita come Carlo Molari perché Carlo Molari è stato è stato destituito è stato dimesso con violenza perché gli è stato imposto di andare in pensione e dedicarsi agli studi senza poter più operare su un piano pastorale e questo è omicidio come si fa poi a difendere la vita come si fa a difendere Luana Inglar oppure a difendere la vita di Luana Inglar quando nella storia della chiesa noi abbiamo fatto massacri prima dobbiamo purificarci prima dobbiamo convertirci e la conversione è in funzione del regno di Dio non al di fuori del regno di Dio e per Gesù il regno di Dio in base a Marco 1.15 metanoeite guardate che il greco è stupendo è stupendo metanoeite cioè cambiate testa cambiate criteri di valutazione cambiate processo di lettura della storia se volete incontrare Dio cambiate i meccanismi perché voi siete nel mondo Giovanni 17 siete 9 11 e mi pare 15 voi siete nel mondo ma non siete del mondo se noi utilizziamo gli stessi criteri in economia nel campo sociale in politica nella vita economica se noi utilizziamo i criteri del mondo noi non siamo convertiti eppure come cristiani noi oggi avremmo un piede di porco per scardinare questo mondo invece siamo intrisi di mondo quando pubblicai un libro con il saggiatore che Cristo non abita più qui io avevo proposto un altro titolo Vaticano virgola Dio è altrove l'editore laico non se l'è sentita e ne ha messo uno un po' più sfumato perché dire che Cristo non abita più qui è come dire tra l'uccellino c'è un'espressione evangelica una parafrasi di Luca ma non ha degli angeli agli apostoli ma non ha senso invece Vaticano e vi posso dire questo perché il Vaticano lo conosco lo conosco lo conosco da almeno 35 anni e tante cose tante cose le potrei le sanno alcuni miei vescovi alcuni miei vescovi però vi posso garantire che oggi o la Chiesa si converte non solo come istituzione ma prevalentemente come o si converte come la più grande rivoluzione che noi come cristiani possiamo fare oggi è un atto individuale un atto di rivoluzione cioè un atto di conversione di cambiare i criteri costi quel che costi anche se fossi da solo anche se resto da solo anche se tutti mi ripudiano io cambio mentalità cambio cultura cambio modo di essere e mi adegua ad imitare il Signore Gesù che ha vissuto e ha parlato in un certo modo e allora il Regno di Dio a me non interessa nulla del dopo morte non mi interessa se Dio c'è non mi interessa cosa ci sia dopo la morte non mi interessa se c'è l'inferno o il paradiso questi sono spauracchi che non mi possono assolutamente toccare né mi toccano io non so se Dio c'è perché il Dio in cui sono cresciuto è probabilmente un Dio che mi sono costruito lungo il corso del mio cammino in un'esperienza di Chiesa che non era adeguata a relazionarsi con Dio però poi ho fatto un cammino personale è un cammino personale la responsabilità è solo mia non può essere né della Chiesa istituzione né degli altri e allora la conversione è un cambiare mentalità è un cambiare cultura è un cambiare criterio di valutazione per entrare dove per prospettare il regno di Dio e qual è il regno di Dio a parte il fatto che l'espressione il regno di Dio è un'espressione che serviva agli ebrei e quindi anche a Gesù per non nominare il nome Yahweh è uno dei nomi alternativi di Dio regno di Dio o regno dei Cieli sapete l'opus Dei nel 1968 in America Latina come traduceva la prima beatitudine beati quella di Matteo beati voi poveri voi che siete poveri nello spirito in greco è beati voi che siete poveri relativamente allo spirito è un complemento di relazione relativamente allo spirito perché vostro è il regno dei Cieli anche qui vuol dire perché vostro è Dio beh l'opus Dei traduceva così per i banchieri per tutta la classe la classe dirigente beati voi che pure essendo ricchi siete distaccati col cuore dalle ricchezze perché vostro è il regno dei Cieli bello eh bene se volete lo trovate in un numero non ricordo adesso quale numero esatto ma sono dieci numeri quindi è facile trovarlo in un numero di concilium dell'annata 1968 all'epoca io studiavo a Verona e fu lì che io scopersi questa a seminario per l'America Latina e fu lì che ho scoperto questo questa perla questa perla questa perla ecco se noi ci addentriamo dentro questa visione il regno di Dio per Gesù è la una nuova possibilità di relazione tra le persone e tra i popoli un nuovo modo di relazionarsi tra le persone e tra i popoli che non è altro che la ripresa di Isaia 2 quella che il Lapira Giorgio Lapira chiamava il sentiero di Isaia e tutti i popoli convergeranno verso il monte del Signore da oriente a occidente da settentrione e dal meridione e tutti ascolteranno la parola di Dio e nessuno si farà più la guerra tra di loro ma forgeranno le spade e le lance in falci questa è la visione di Isaia al centro di tutto c'è la parola ma se noi non siamo intrisi di questa parola noi non possiamo essere profeti eppure la profezia è insita nel battesimo noi siamo consacrati dice il il testo il rituale noi siamo consacrati sacerdoti re e profeti siamo consacrati con il crisma sacerdoti re e profeti perché allora come laici non pretendiamo di essere sacerdoti re e profeti e di prendere il nostro posto nella Chiesa anche come struttura perché non cerchiamo in piedi e pretendiamo il rispetto del diritto battesimale che è un diritto primigenio che affonda le proprie radici nel cuore di Dio se c'è perché perché siamo passivi perché partecipiamo all'Eucaristia in una forma come dire ancora legata al precetto io ringrazio Dio perché il mio popolo il mio popolo dico il popolo in mezzo al quale vivo io questo l'ha superato i santorpetini hanno superato il concetto di precetto perché che cos'è l'Eucaristia l'Eucaristia come atto profetico dice il Targum che Gesù conosceva che conosceva molto bene perché veniva veniva proclamato a memoria cioè veniva proclamato oralmente nelle sinagoghe quindi anche nella sinagoga di Nazare anche nella sinagoga di Cafarnao anche nelle sinagoga che frequentava a Gerusalemme o nel Tempio il Targum di commento al Cantico dei Cantici al versetto 2 al capitolo 2 al versetto ottavo dove l'innamorato che si avvicina verso la casa dell'innamorata dopo aver percorso l'inverno lontano e saltellando per i monti come un capriolo dice come è bella la tua voce amata mia fammi vedere il tuo volto fammi sentire la tua voce o amata del mio cuore il Targumista sapete come traduce è Dio il Signore Dio l'Altissimo rivolgendosi a Israele alla Santa Assemblea disse O Santa Assemblea di Israele com'è bello vederti in orazione fammi sentire la tua voce fammi vedere il tuo volto quanto preghi e fammi sentire la tua voce quanto compi le opere di bene e allora che cos'è l'Eucaristia? l'Eucaristia è la risposta ad una vocazione che viene direttamente dallo Spirito e noi ognuno di noi dalle proprie abitazioni cioè dalla propria diaspora converge verso il monte del Signore dove al centro c'è la parola per realizzare il bisogno di Dio di vedere l'assemblea orante e l'assemblea che condivide con gli altri chi è e cosa ha perché lo Shema di Israele lo Shema Israele Adonai Elohenu Adonai Echad io sono ascolta Israele il Signore nostro Dio è uno lo amerai con tutto il cuore con tutta la mente poi c'è una ci sono diverse varianti che non è il caso questa sera con tutta la mente lo amerai con tutto il cuore con tutta la mente con tutte le tue forze e le tue forze in ebraico è becole mechod e becole e becole mechod vuol dire con le tue sostanze e significa questo Atti Libro degli Atti i primi cinque capitoli Anania Zafira vi ricordate queste cose guardate che nella Bibbia tutto si tiene tutto si tiene non può essere letto un pezzo per pezzo che è un po' la sventura delle nostre Eucaristie dove l'Evangelio e la Bibbia sono divisi con l'accetta dividendo in un modo veramente assurdo 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 che rendono incomprensibile e alle volte deformano proprio il senso che l'Evangelista vorrebbe dare al test guardate com'è bella questa visione cioè l'Eucaristia è il bisogno di Dio di contemplare il volto orante dell'Assemblea e allora come posso io non correre all'Assemblea per rispondere al bisogno di Dio che ha bisogno di me altrimenti non può essere Dio vado per non fare peccato ma che possa tu sprofondare nel tuo peccato come se il peccato fosse più grande di Dio la preghiera l'Eucaristia che è l'atto più solenne che è l'atto più importante è l'atto più rivoluzionario è l'atto più politico che noi possiamo compiere è diventato semplicemente una una messa ad orario la messa delle otto la messa quando io ero ragazzo c'era la messa delle quattro per i cacciatori affinché i cacciatori non potessero perdere la messa e così fare peccato capite ancora oggi per esempio io sento vedo nelle bacheche delle chiese il sabato messa prefestiva che orribile che orrore perché in quella prefestiva c'è tutta una visione cioè significa che noi non conosciamo non sappiamo eppure i preti dicono il breviario da che sono preti la liturgia delle ore dove ci sono i primi vespri e i secondi vespri perché secondo il calendario ebraico cristiano la giornata comincia col tramonto del sabato e si conclude al tramonto della domenica allora la messa del sabato è la prima messa della domenica che dovrebbe essere la messa più importante perché è quella che sveglia dovrebbe introdurre per svegliare l'aurora come dice fratello Arturo Paolo e come dice Dino Biggio loro sì che svegliano l'aurora e la svegliano come se la svegliano e allora l'eucaristia è il rispondere ad un bisogno di Dio e pregare non è dire questo dire quello certo uno si può aiutare come vuole l'importante è che preghi con tutto se stesso con il cuore sapete perché gli ebrei quando sono al muro del pianto si muovono continuamente si muovono continuamente avanti indietro su e giù perché il corpo umano è composto secondo gli antichi è composto da 248 pezzi e l'anno liturgico e l'anno solare è composto da 365 giorni la Torah nella Torah sono codificati per gli ebrei 613% 365 negativi uno per ogni giorno del tempo e 248 positivi che comprende la materia comprende il corpo muoversi durante la preghiera è dare il senso a se stessi e agli altri che tutta la persona partecipa al colloquio con Dio solo che Gesù ha apportato una novità una novità che fa parte della dimensione della fede non della religione la prima azione una delle prime cioè l'atteggiamento costante di Gesù una caratteristica della vita di Gesù che ricordiamolo bene era un laico era quello di contrastare la religione in ogni suo aspetto Gesù non ha rinnegato la religione ma l'ha contrastata finché ha potuto così come ha contrastato il potere politico pur scegliendo se voi ci fate caso se voi leggete i Vangeli guardando esclusivamente ai posti ai luoghi che Gesù frequentava vedete che Gesù frequentava i confini i confini con il Libano con la Siria con il 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 mare il mare il mare mediterraneo cioè andava sempre ai confini la Fenicia stava sempre al di fuori ma quando si trovava a contatto con il potere politico e il potere religioso Gesù diventava duro come una pietra perché si contrapponeva in quanto li riteneva e guardate il dialogo con con Pilato il dialogo con Pilato capitolo 18 dell'Evangelo di Giovanni qual è la novità che Gesù porta? la novità la dice nel Vangelo di Marco se non vado errato al capitolo 15 al versetto 30 nel centurione il centurione romano ai piedi della croce un attimo prima che Gesù morisse vistolo morire in quel modo disse veramente costui era figlio di Dio dove l'espressione figlio di Dio non vuole non deve essere presa alla lettera come la intendiamo noi nel nostro vocabolario di ero deve essere presa nella letteratura apocalittica del tempo di Gesù che vuol dire un uomo Gesù figlio di Dio così come io sono figlio di Dio come ciascuno di voi è figlio di Dio cioè ma Gesù era pieno di Dio era pieno dello spirito di Dio e per questo ne poteva fare l'esegesi perché lui conosceva l'intimo di Dio perché la caratteristica di Gesù in tutti i Vangeli è che Gesù quando andava a pregare perdeva tempo per il padre per la persona che amava perdeva tempo e amare è perdere tempo per la persona amata vi ricordate il piccolo principe la volpe che cosa dice quando io ti aspetto l'amicizia è quando io ti aspetto e tu arrivi prima ti metti un po' distante poi più vicino poi più vicino poi più vicino poi più vicino e l'amicizia è aspettare attendere condividere e la seconda caratteristica è che nel momento in cui Gesù secondo Giovanni consegnò lo spirito in questo anche la Bibbia della CEI del 2008 traduce correttamente consegnò lo spirito non espirò ma consegnò è una tradizio è una consegna a noi perché nel discepolo e nella madre presente che sono il prototipo di Adam e Eva un uomo e una donna cioè c'è una consegna all'umanità del suo spirito dunque noi abbiamo lo spirito e diceva e diceva Sertijansh che noi il compito nostro non è quello di adorare Dio questa è una invenzione del XVII secolo il jansenismo il compito nostro non è di adorare Dio il compito nostro è quello di andare alla ricerca di hoilogo i spermaticoi cioè dei del verbo dei semi del verbo disparsi nel mondo noi dobbiamo andare in giro per il mondo a riconoscere questi segni chiamarli per nome e ricomporre il volto di Cristo per poterlo presentare al Padre come dice sempre Paolo voi siete di Cristo Cristo è di Dio e Dio è tutto in tutti se non facciamo questo e noi andiamo in chiesa solo per tranquillizzarci la coscienza che andremo in paradiso la nostra vita è totalmente un fallimento da questo punto di vista non vale la pena di essere vissuta i casi come dice Pasquale sono due o Dio c'è o Dio non c'è ammettiamo che non ci sia la domanda che ci dobbiamo porre è è valsa la pena vivere la vita secondo il Vangelo e sappiate che il versetto primo del Vangelo di Marco il capitolo primo che correttamente traduce anche se non completamente la Bibbia di Enzo Bianchi non è inizio del Vangelo di Gesù Cristo ma quel versetto deve essere tradotto secondo la sintassi deve essere tradotto principio cioè fondamento del Vangelo del Vangelo cioè Gesù cioè Cristo cioè Figlio di Figlio di questo regge con il versetto 15 convertitevi e credete non nel Vangelo ma credete al Vangelo to e anche Dio e il Vangelo chi è? una serie di norme allora se per questo leggete il discorso della montagna i capitoli non solo quinto ma anche il sesto e il settimo di Matteo vi è stato detto ma io vi dico vi è stato detto che sono i maestri i maestri della Mishnah e del Talmud orale vi è stato detto ma io vi dico Gesù basa la sua autorità sulla sua parola sulla sua persona e tante volte nelle in tutti i Vangeli specialmente nel Vangelo di Giovanni troviamo l'espressione di autorivelazione non sono io lei non sa chi sono io ma che sono io noi dobbiamo per forza tradurre io sono io sono io sono chi cercate? Gesù il Nazareno io sono che in ebraico suona ani oppure meglio ancora anochi e tutti indietreggiarono e caddero in ginocchio perché si trovavano davanti al volto di Dio al volto di Yahweh e nel momento della morte il velo del tempio si squarciò da cima a fondo per chi non conosce la struttura del tempio di Gerusalemme il velo del tempio era doppio cioè c'era un velo poi si entrava dentro c'era un altro velo per essere sicuri che non si potesse vedere dall'altra parte e il sommo sacerdote entrava da una parte lo attraversava all'interno tra i due veli poi rientrava nel santo dei santi e lì svolgeva quello che doveva svolgere quando usciva riprendeva dall'altra parte attraversava tutto il velo e usciva fuori dalla parte opposta bisognava che fosse separato il santo dei santi dal santo che era il luogo dei sacerdoti e dalla parte in cui stava il popolo e dalla parte esterna in cui stavano i pagani e le donne il velo del tempio si squarciò da cima a fondo che cosa vuol dire per l'evangelista questo che non c'è più separazione tra sacro e profano non c'è più separazione Dio adesso è visibile Dio è toccabile come lo tradurrà Giovanni la prima lettera di Giovanni il prologo della prima lettera di Giovanni versetti 1-3 ciò che noi abbiamo visto ciò che i nostri occhi hanno visto che le nostre orecchie hanno visto e che le nostre mani hanno toccato cioè il verbo della vita come si fa a toccare il verbo della vita? in ebraico c'è una parola una parola che è Dabar che vuol dire contemporaneamente cosa e parola discorso pensiero ragione cosa quindi toccare il verbo significa toccare una cosa reale toccare una cosa reale la parola è la cosa è l'evento è il fatto è l'incarnazione non è un ragionamento astratto non è un insieme di morale il Vangelo è la persona di Gesù che noi possiamo toccare è come l'emorraissa che tocca il lembo del mantello e viene guarita e Gesù dice chi mi ha toccato come rispondono gli apostoli i discepoli ma con tutta questa ressa quel toccare era diverso era un toccare dell'anima era il bisogno di una donna che si accostava all'uomo che parlava di Dio ma sapete che cosa vuol dire questo Gesù è diventato impuro per il semplice fatto di essere stato toccato da una donna che perdeva sangue ma lui non se ne è fatto un problema alla peccatrice di Giovanni 8 non dice vai a confessarti dice donna nessuno ti condanna nemmeno io sei libera vai non peccare più cioè si affida alla sua coscienza alla sua libertà Gesù è la pienezza della libertà è la pienezza della coscienza ecco allora se per concludere il il rapporto tra religione e fede la religione è commerciale vende Dio come un prodotto la fede scopre Dio come un amante e qui il profeta è colui che educa al passaggio dalla religione alla fede perché la fede coinvolge la propria vita anche se questa vita non è compresa anche se questa vita non è percepita dagli altri come autentica anche se questa vita non ha nessun valore apparentemente ma sappiate che secondo gli ebrei secondo un midrash ebraico ogni generazione è sostenuta da 36 giusti che sono gli anni di Isacco quando doveva essere sacrificato e sono gli anni di Gesù quando è morto in croce Gesù è morto 36 anni in base al calendario sfasato che è dell'errore che ha fatto Dionigi l'Aeropagita nel quinto secolo dopo Cristo e e quindi se ogni generazione è tenuta in piedi da 36 giusti che nessuno conosce io questa sera vi dico che ciascuno di voi può essere uno di questi giusti che tiene il mondo ma a noi cosa ci importa se ci dicono che siamo belli siamo brutti che siamo furbi non siamo furbi noi dobbiamo essere semplicemente veri e coerenti e ogni giorno dobbiamo aiutarci ad illimpedire lo sguardo per poter leggere gli eventi che viviamo perché Dio non è presente nelle chiese Dio è presente nelle persone che incontriamo e negli avvenimenti che viviamo i due luoghi i due tabernacoli certi della presenza di Dio e se noi siamo sempre in contatto con quello che Paolo chiama il Kairos che non è un evento straordinario ma è un evento propizio cioè un evento buono un evento che dà una svolta alla vita se noi sapremo vivere i Kairoi i Kairos cioè gli avvenimenti a cui stiamo attenti che poi Matteo chiama anche Luca chiamano anche i segni dei tempi se sappiamo leggere i segni dei tempi o se avessimo saputo leggere il segno dei tempi di Papa Francesco Papa Francesco è veramente mandato da Dio guardate come è libero quest'uomo che non considera e guardate che se qualcuno fa raccolte di firme per difenderlo lui va in bestia perché lui non ha bisogno di essere sostenuto in questo mondo ha bisogno della nostra solidarietà ha bisogno magari ogni tanto mandiamogli un biglietto e diciamo non chiamatelo Santo Padre non chiamatelo Santo Padre chiamatelo Papa che è l'espressione di Papà è l'espressione di Papà e ditegli semplicemente scrivetemi un biglietto ti vogliamo garantire che io sono presente con la mia preghiera nella tua vita e che tu sei importante e che noi preghiamo lo Spirito perché ti illumini perché questo Papa sta facendo l'esperienza della solitudine però siccome Gesuita e ha fatto gli esercizi spirituali di San Dignatio lui sa che il principio e il fondamento della vita spirituale è non conoscere Dio ma sapere ciò che si vuole io devo sapere sempre ciò che voglio nella preghiera nella vita nelle relazioni alla fine troverò Dio come un premio ad una studentessa universitaria che si dichiarava atea Don Lorenzo Milani la trovate nel carteggio suo pubblicato da Rizzoli mi pare due volumi sono due volumetti due volumone ma sono due volumetti piccoli scrive non ti preoccupare di Dio dell'esistenza di Dio o di altro del più e del meno occupati dei poveri e troverai Dio come un premio senza che nemmeno te ne accorgi se noi sappiamo vivere la profetia come attitudine costante permanente della nostra vita sapremo respirare la vita del Vangelo perché come Francesco D'Assisi non saremo tanto persone che pregano o persone che vanno a messa ma saremo noi stessi preghiera e presenza non tam orans quam oratio Francesco dice Bonaventura nella vita di Francesco non era tanto uno che pregava quanto piuttosto preghiera lui stesso e la preghiera è il silenzio il perdere tempo non ne volere non volere nulla perché se Dio sa che cosa hanno bisogno di che cosa hanno bisogno gli uccelli del cielo ai gigli del campo di che cosa vogliamo preoccuparci se Dio si è messo lì con pazienza a contare i capelli che abbiamo in capo e con Don Mario ci ha voluto molto ma molto tempo perché ha tanti e tanti capelli e Dio ha avuto una pazienza enorme nel contare i suoi capelli di che cosa vogliamo preoccuparci ci preoccupiamo di andare in paradiso e di non andare all'inferno ma come povera la nostra vita come sarebbe povera la nostra vita se così fosse preoccupiamoci del regno di Dio che è come inventare un modo nuovo di essere di relazionarci tra di noi e di relazionarci con gli altri popoli e cambieremo il mondo come fosse un guanto senza nemmeno un'eccessiva fatica perché credetemi io non so se Dio c'è non lo so proprio ed è se volete il mio tormento ma credo e ve lo dico con sinceramente che vale la pena vivere per il Vangelo e quando si vive per amore non ci sono rinunce che si fanno quando uno regala la propria libertà non ha più una libertà sua non ce n'ha più perché la regala e se la regala non gli appartiene ma è felice che l'altro ne possa fare quello che vuole questo avviene tra gli amanti questo e solo questo può avvenire tra noi e Dio sempre ammesso che ci sia grazie a nome di tutti non aggiungo altro perché ci hai tenuti per due ore abbondanti è normale questo per Don Paolo senza senza interruzione vuol dire che nessuno si è ritirato dalla e allora davvero grazie io proporrei siccome non si può adesso dibattere ti proporrei un altro appuntamento solo però con il dialogo ecco quanti hanno seguito ascoltato questa sera magari ci riflettono avendo magari delle domande delle considerazioni da fare lo possono fare oppure Mario delle esperienze che possono integrare correggere oppure arricchire esatto esatto io ti propongo visto che ho guardato il calendario sempre di lunedì il 14 marzo se tu sei libero io mi libero subito no così scrivo quanti sono quanti sono presenti possono già fissare segnarselo ecco 20 e 45 14 bene vorrei solo chiedere sì se fosse possibile magari a qualcuno di farlo solo una emozione l'espressione in una parola qual è il sentimento che ognuno di noi ha vissuto in questo in questo con una parola paura disgusto superficialità comunque una parola qualcuno liberamente gratitudine una buccata d'aria fricca prego chi vuole chi vuole intervenire deve aprire il microfono sì ma tutti ammutoliti invece di aprire la paura invece di di per parlare i moti le ho ammutoliti la parola gioia gioia grazie giuseppe una dissoluzione della nebbia come al mattino mi ha chiarito e confermato tante cose grazie grazie io il 14 marzo ci avrei un altro webinar ah io eh però io tutti i lunedì poi vi dico quali sono gli appuntamenti Info direttivo Alfredo sì allora io mi sono ritrovato perfettamente in quello che ci ha comunicato Don Paolo e ho rivissuto tante esperienze le mie esperienze nella chiesa quindi grazie grazie prendete pure la parola se c'è ancora qualcuno beh potete poi fare pervenire al limite penso che sia importante formalizzare non necessariamente con le parole però anche dentro di voi di prendervi qualche appunto sui sentimenti che con cui avete reagito perché domani li dimenticate però sono importanti nel vostro cammino nel vostro processo sia positivi che negativi sia positivi che negativi è molto importante questo e anche con la libertà di dire desiderio di ribattere desiderio di confrontarmi ma non lo faccio adesso perché è troppo tardi certo ma lo faremo la prossima lunedì desiderio di confrontarmi su alcuni temi bene bene allora direi di concludere davvero grazie Don Paolo perché è sempre compassione e chiarezza nel condurci in maniera davvero decisa è anche incoraggiante è un po' ripercorrere un po' il nostro vissuto oppure il vissuto di altri che comunque è sempre molto molto accattivante e vi vi dico i prossimi appuntamenti allora lunedì 28 siamo nuovamente con Enzo Bianchi prosegue come leggere la Bibbia il secondo incontro sui profetti quindi avremo modo di sentire anche cose magari dette questa sera che è sempre utile anche sentendo altre persone la propria esperienza il proprio vissuto lunedì 7 marzo e anche qui occorrerebbe la la partecipazione anticipata un po' di tutti perché ho combinato con Vito Mancuso non tanto di fare una conferenza o trattare un argomento ma proporre questa nostra chiesa e ognuno di noi può anticipare o in quella sera lì intervenire e dire beh questa nostra chiesa mi fa paura questa nostra chiesa non mi piace questa nostra chiesa ognuno è un'occasione che così abbiamo combinato insieme per poter fare in qualche modo sinodalità non per parlare del sinodo ma fare sinodalità e troverete sul sito su youtube la serata che abbiamo vissuto davvero in maniera bella e coinvolgente questa sera grazie davvero Don Paolo ci teniamo in contatto per la prossima io direi teniamo destra l'attenzione e la nostra preghiera per la pace e vi propongo questa preghiera ebraica per l'umanità noi ti preghiamo per tutta l'umanità anche se divisi in nazioni e razze tutti gli uomini sono figli tuoi da te ricevano vita ed esistenza e tu comandi loro di obbedire alle tue leggi così come ciascuno può conoscerle e comprenderle fa che scompaiano odie e lotte fa che una pace perenne riempia la terra e che in ogni uomo l'umanità possa godere i frutti della in ogni luogo l'umanità possa godere i frutti della pace così lo spirito di fratellanza tra gli uomini manifesterà la loro comune fede in te padre di tutti amore buon riposo buonanotte di frattaccia di frattaccia di frattaccia